Amore questo sbocciato oramai, sembrava passire, non moriva mai. Quella notte Maíno aveva solo sette compagni. E proprio in quella notte lui scrisse la legge della banda, lo statuto che avrebbe governato tutti i rapporti della banda con l'esterno. E lo scrisse ripensando e ripensando ad ogni parola e prendendo esempio ciò che avveniva intorno, lui cominciò... Amici, compagni fedeli, questa sarà la nostra legge. Tremando, si fece avanti e chiamò dietro di sé tutti i suoi uomini. Voleva arrivare lì su. L'amore Vieni, faccio di noi che letto, vieni, che faremo l'oretto, vieni, faremo l'amore. No, 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 io non posso, io non ci verrò, se per grande di ho paura, io non ci verrò. No, 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 non mi chiedere di andare al bosco, non mi chiedere di fare questo, che a casa starò. Si alza un gatto. E sapete qual è la differenza tra un macellaio e la donna? Ma non c'è la differenza, no, perché tutte e due vengono la carne, no? E' bello. E questo invece riguarda i bambini. C'è un'impresa che Marino... Ma papà, perché mi hai fatto questo torto? Di quale torto parli al mio figlio adorato? Hai visto il prete quando recita la messa? Sì, padre. Hai visto quante cose dice? Sì, padre. E hai visto quando si ginocchia? Eh, sì, padre. E hai visto quando beve? Eh, sì, padre. Se il giorno fosse tempesta, mentre alla sera poi era fessa, ma quando poi... Quella ragazza deperiva giorno dopo giorno. Era diventata magra. Lei che era così timida, in mezzo a tutti quei bregantoni lì con gli spacciapossi... ...bianca rossa, così a girare le città d'Italia. E così lei sarebbe stata meglio. Ma... Ma io non pensava... Eh, questa vita quanto tempo durerà. Prima o poi ci rimetterò le penne. Bisogna che ce ne andiamo via, Cristina, lontano, oltreoceano. Ma io non afferra la pistola. Fuoco. Ancora fuoco. Pianto. Ma io non carica la pistola. Ultimo colpo. Maledizione. Addio mia Cristina. E si uccise. Bravi! Bravi! Grazie.